In seguito alle numerose segnalazioni, ai tanti avvistamenti dei lupi presso il Comune di Arrivè, in particolar modo in posizione estremamente vicino agli abitati, al capoluogo del Comune dell'Alta Valle, abbiamo organizzato per questa mattina una riunione tecnica unita un sopralluogo della struttura risorse naturale con il Dottor Aurillier del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, con il suo Vice Comandante Giancarlo Novazzi e il personale della stazione di Arrivè, insieme al Comune della località con il Sindaco Mauro Lissiana. Quest'attività è finalizzata a un aumento dell'attenzione, del monitoraggio, del controllo della specie lupo sul territorio, in particolar modo nel Comune di Arrivè. Vogliamo con queste azioni innanzitutto dare una maggior sicurezza, una maggior tranquillità alla popolazione residente in seguito ai fatti degli ultimi giorni, è un periodo nel quale i giovani lupi si allontanano dal branco cercando un loro territorio, andando in cosiddetta dispersione. È comunque un caso anche anomalo che si prolunghi per così tanti giorni la vicinanza a questi centri abitati. È stato opportunamente ricordato anche via stampa e colgo anch'io l'occasione per farlo a tutti i cittadini, non solo del Comune di Arrivè, ma in generale della nostra regione, là dove si verifichano degli avvistamenti, di evitare di lasciare del cibo per gli animali all'esterno delle abitazioni e in caso di avvistamento della specie lupo di avvisare la stazione forestale competente e in alternativa il 15-15. Il colpo forestale sta facendo un'azione intensa, attenta, di monitoraggio e di controllo sul territorio, un'azione che non verrà meno ma che sicuramente verrà intensificata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con un aumento ulteriore delle fototrappole presenti, tra l'altro fototrappole verranno allestite di ultima generazione con una segnalazione in tempo reale e tutta una serie di accorgimenti e innovazioni da qui previste anche per la futura stagione di monticazione negli alpeggi della nostra regione.